E' stata la rottura di una condotta dell'acqua a provocare il cedimento di una porzione di asfalto in via Rigopiano a Pescara, proprio davanti all'asilo nido Il Bruco. Aprendosi, la voragine ha intrappolato un mezzo di attiva che era in transito sulla strada alle prime luci del giorno. Per liberarlo, sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, che hanno provveduto anche a mettere in sicurezza l'area, oltre alla Polizia Municipale impegnata a regolare il traffico. Contemporaneamente sono stati allertati anche gli operai dell'ACA, chiamati intorno alle 6.45 per verificare e ripristinare il danno alla condotta idrica. Qualche disagio alla viabilità si è verificato nell'ora di punta in concomitanza con l'ingresso dei bambini nella scuola. Il mezzo, rimasto incagliato nella voragine, è stato riconsegnato alla società di raccolta dei rifiuti. Fortunatamente nessun danno sembrerebbe essere stato arrecato al personale di attiva in servizio al momento dell'incidente. Nessuna criticità, la situazione è sotto controllo, ha assicurato il sindaco di Pescara, Carlo Masci, contattato telefonicamente, ribadendo che il problema è stato causato semplicemente dalla rottura di una conduttura idrica dell'ACA, al lavoro per risolvere il guasto e riportare tutto alla normalità senza troppi disagi. Più preoccupati invece i cittadini. L'incidente, dicono, poteva avere conseguenze ben più gravi se si fosse verificato durante l'ora di entrata dell'asilo, con il viavai di mamme e dei loro bambini.